Senti, io veramente ti devo ringraziare perché hai accettato il mio invito e sei venuta qui con me, sono veramente contento, grazie. Lucia, vero? Sì, Lucia. Il tuo nome è bellissimo. Grazie. Penso che anche mia nonna si chiamava Lucia. Sì, mia nonna era bellissima, era proprio buona, cara, un angelo e mi voleva un bene dell'anima. Certo, era tua nonna. Ah, la conoscevi? No. Sì, è giusto come farci, non la potevi mai conoscere. Che scemo che sei una domanda a fare. Senti, ti posso fare una domanda? Dimmi pure. Che ne pensi se io e te ci scambiassimo i numeri di telefono? No, perché? Io mi trovo bene con il mio. Senti, ma invece parlami di te, di che cosa ti occupi? Io? Tu. Io, ricercatore. Wow, interessante. E che cosa stai cercando? Il lavoro. Ah. Capito? Senza lavoro, lo sto cercando. Quindi, quello. Oh,matic. Ahaha. Ahahahha. Ahaha. Ahahahah! No, impertinent. Grazie a tutti.